Al forum HR 2015, SCS Consulting ha presentato un progetto di trasformazione per il settore assicurativo. Come è nato questo progetto e che obiettivi aveva? Il progetto che abbiamo realizzato si è svolto in un'assicurazione italiana che si chiama il gruppo ITAS Assicurazioni, una realtà importante rispetto alla tradizione di 194 anni di assicurazione. Abbiamo pensato di presentare questo caso per la forte corrispondenza che comunque ha il mondo assicurativo rispetto al mondo bancario, rispetto alle tematiche della distribuzione, della vendita dei prodotti assicurativi e non assicurativi, quindi anche dei prodotti finanziari e quindi della necessità riscontrata di dover rinnovare le competenze e delle persone che risiedono nella rete distributiva, con una caratterizzazione specifica rispetto al mondo assicurativo, che si differenzia rispetto a quello bancario, sostanzialmente legata al fatto che gli agenti sono non come titolare di filiali dei dipendenti, ma sono degli imprenditori. Quindi a maggior ragione il loro interesse, il loro coinvolgimento nell'attività di questo tipo è da un lato valutato, e quindi non preso come qualcosa che viene determinato top down, ma nello stesso tempo apprezzato come valore importante per la creazione del loro reddito, per lo sviluppo delle loro imprese e delle loro piccole imprese. Il progetto partiva dalla percezione del cambiamento del cliente e della rete assicurativa, un cambiamento che si avverte anche nel mondo bancario. Assolutamente, lo stesso cambiamento che proprio anche studi o analisi che vengono fatti nel mondo bancario, anche da altri convegni di Abia, abbiamo visto come l'evoluzione del cliente verso la digitalizzazione, verso una maggiore informazione, verso la necessità di essere più consapevole delle scelte che fa, da un punto di vista di acquisto dei prodotti finanziari, dell'apprezzare le differenze legate al servizio che viene erogato dalla rete distributiva e quindi anche dalla necessità poi di provare una customer experience che non sia neutra ma che sia di eccellenza, diventa un elemento assolutamente trasversale. E da qui è partito il nostro progetto rispetto a una direzione commerciale che sicuramente aveva di fronte tutti questi elementi, ha voluto indagare sostanzialmente e quindi capire meglio come in questo contesto, in questo mondo la sua compagnia si stava muovendo, quindi la sua rete distributiva si stesse muovendo, facendo come prima fase un'attività sia di assessment, di assessment standard individuale a una campione di agenti, sia sulle competenze tecniche che trasversali, sulle competenze di business, di conoscenza del mercato, proprio per comprendere come gli agenti in questo momento stavano rispondendo a questi cambiamenti e come stessero rispondendo ai cambiamenti anche rispetto alla gestione delle loro strutture, delle loro realtà imprenditoriali. Parallelamente è stata svolta un'attività di mystery client in modo da portare in analisi anche gli elementi legati al punto di vista del cliente realmente che si confronta con i territori presidiati dalle agenzie ITAS. Da qui è nata un'attività formativa che ha coinvolto tutta la rete, quindi tutti gli agenti e tutti i collaboratori degli agenti su tutto il territorio, realizzata con una metodologia che abbiamo chiamato Action Compass. Questa metodologia prevedeva due giornate formative, una per gli agenti e una per i collaboratori, nelle quali venivano approfonditi i temi legati alla conoscenza del cliente, la conoscenza del contesto, la cosa significava intervenire per migliorare la customer experience. Si sono trattati anche i valori dell'azienda come elemento comunque di continuità rispetto a un modello di servizio che in termini di servizio e di soddisfazione era comunque molto presente dal punto di vista dei valori un po' meno rispetto ai differenti modi con i quali ora è necessario rispondere a questa dimensione. L'attività formativa è stata molto coinvolgente, gruppi molto ampi, facilitati, però autogestiti, quindi tavoli di lavoro con delle bussole che li accompagnavano in questi ragionamenti e anche in sperimentazioni. All'interno dell'attività formativa poi venivano identificate anche delle azioni quick-win, quindi delle azioni che già dal giorno successivo la gente con i suoi collaboratori poteva anche mettere in campo in una logica di con maggiore approccio consulenziale nei confronti dei clienti e di proattività commerciale. Queste azioni poi nella terza fase, quella della messa in azione, vengono in un qualche modo monitorate, stimolate, tenute attive da una survey che va a riprendere anche i contenuti trattati in aula, quindi della giornata formativa e va a richiamare e a chiedere in un qualche modo come sta andando la realizzazione di queste attività. Tutto questo anche per preparare la popolazione ai workshop che verranno realizzati successivamente dove verranno messi insieme sia gli agenti che i collaboratori per poi ragionare su nuove azioni concrete da mettere in campo, quindi tutti quelli che sono state le stimolazioni e i contenuti trattati insieme poi verranno e devono essere calati nella realtà concreta. Questi workshop hanno quindi l'obiettivo della messa in azione, così lo abbiamo chiamato anche nella nostra progettualità e successivamente saranno accompagnati da un tutoring on the job, un'attività che sostanzialmente è un'attività che fanno comunque i coordinatori commerciali per presidiare poi l'avanzamento delle progettualità e delle iniziative che hanno messo in campo. A chiusura di questo progetto il mystery monitoring sarà un po' il momento del check, della verifica, quindi dell'efficacia del progetto e nello stesso tempo anche di come poi il cliente ha effettivamente percepito un cambiamento di approccio rispetto alle iniziative che sono state messe in campo. Questo tipo di progetto è applicabile anche al mondo bancario? Assolutamente sì, diciamo che l'aspetto che secondo noi è di straordinario efficace rispetto anche a tanti interventi che comunque abbiamo svolto nell'ambito anche bancario per STEP è l'aspetto dell'integrazione, quindi partire da elementi concreti che si possono portare anche in aula perché comunque portare i risultati della propria misteri alle persone in aula fa differenza rispetto a fare un ragionamento generale per esempio e arrivare fino alla come dire alla cura, al presidio della messa in azione è anche come dire un aspetto che anche le persone apprezzano molto come messa a terra perché poi insomma grande distanza tra ti dico delle cose e ti aiuto a farle un po' il tema del momento insomma di accorciare questi tempi di messa in azione.